Sarà dedicata a Marco Ragnetti la prima edizione della gara ciclistica Rossini-Raffaello, prevista domenica 3 luglio. 80 km di sfida a colpi di pedale che uniranno le due città capoluogo di provincia in una competizione ciclistica nazionale della categoria allievi, ovvero dedicata all'età compresa fra i 15 e i 16 anni. La stessa età che aveva il pesarese Marco tragicamente scomparso in un incidente stradale in scooter lo scorso mese di marzo. Marco era un ciclista dell'Alma Juventus Fano, società sportiva che tra i soggetti promotori di un evento che nasce ora con l'ambizione di diventare una classica. Saranno circa 150 i giovani ciclisti fra i 15 e i 16 anni che domenica prenderanno parte alla prima Rossini-Raffaello presentata lo scorso mese di maggio nel comune di Pesero alla presenza anche dei commossi genitori di Marco, fianco a fianco al lavoro interforza organizzativo di Fisioradi Medical Center, Cava Virginia, Alma Juventus Fano, Ciclo Ducale e al sostegno dei comuni di Pesero e di Urbino. Se uno ha una mentalità vincente, se uno ha una mentalità con una passione forte, se uno guarda avanti, come ha detto Giacomo Rossi, potrebbe diventare un evento internazionale, come dico sempre, i sogni nella vita servono per farti guardare avanti, per farti realizzare sicuramente e raggiungere degli obiettivi. Una gara, un sogno, quella voglia di competere e di sognare gareggiando che aveva anche Marco Ragnetti. Avevamo ospitato l'Alma Juventus Fano 15 giorni prima della sua morte presso il centro Fisioradi Medical Center, in una serata dove parlavamo di nutrizione, di mentalità e proprio questi ragazzi sognavano questa Pesero Urbino, Rossini e Raffaello, questa gara in linea sul loro territorio perché loro dicevano che è un sogno per noi avere una gara di questo livello qui da noi e qualcuno di loro aveva detto che mi piacerebbe vincere e uno di questi era Marco Ragnetti. La Rossini-Raffaello partirà il 3 luglio alle 15.30 da Piazza del Popolo di Pesero e raggiungerà Urbino passando per Montelabate, Apsella, Talacchio, Rio Salso, Borgo Massano, Cagallo, Schieti e Fermignano per un ciclismo che valorizzerà anche il territorio a colpi di pedale.